A Vallo della Lucania 3.538 voti per la lista di Antonio Sansone contro i 1.709 voti dello sfidante Marcello Ametrano. Una grande festa per i valesi che riabbracciano dopo 15 anni il dottore che ha già amministrato la città dal 1997 al 2006. Sansone è stato sostenuto dal PD con Simone Valiante e dal Movimento 5 Stelle con il senatore Francesco Castiello. Ametrano invece era espressione del sindaco uscente Antonio Aloia. Evidentemente emozionato Antonio Sansone è stato per lungo tempo festeggiato in piazza Vittorio Emanuele da familiari, candidati della lista, da amici e simpatizzanti. Ha ottenuto otto seggi in consiglio comunale mentre quattro per Ametrano. Nella maggioranza di Antonio Sansone sono stati eletti Tiziana Cortiglia la più votata con 681 voti, a seguire Nicola Botti con 645 voti, Loredana Moscatiello con 623, Enzo Puglia 571, Virginia Casaburi 509, Antonio Bruno 501, Yolanda Molinaro 438 e Pietro Miraldi 390. All'opposizione con il candidato sindaco Marcello Ametrano siederanno Giussi Sansone 293 voti, Mario Fariello 237 e Lara Giulio 251.